Fatemi aprire il collegamento con Nicole Di Giulio che ha un ospite che a noi sta molto a cuore perché è un ospite che abbiamo cominciato Don Ugo Patti, buongiorno padre, che l'abbiamo conosciuto in queste settimane appunto con Nicole Di Giulio per i racconti che ci ha fatto di Mirto, di Mirto Milani e anche un po' della sua famiglia. Nicole, ci dicevi che ci hai anticipato che le indagini difensive previste per domani sono saltate, non verrà ascoltato? Sì Milo, domani Don Ugo Patti non verrà ascoltato dalle legali che difendono Mirto Milani e le due figlie Silvia e Paola Zani quindi una battuta d'arresto in queste indagini difensive. Noi ci chiediamo se dovuta questo dietrofront solo a motivi, ragioni improrogabili altri impegni da parte delle legali oppure se sia il sintomo del fatto che presto il collegio difensivo si possa spaccare che quindi la linea di difesa per Mirto e per le ragazze possa prendere strade diverse. Ma intanto, Don Ugo, che cosa le hanno detto le legali? Semplicemente che avevano un'urgente urgenza e quindi hanno rimandato l'impegno. Ecco, ma cosa si aspettava lei? Cosa si aspettava di dire domani? Non ho proprio la più palida idea perché... Eh sì, non lo so, non lo so proprio perché io non ho niente da aggiungere rispetto a quello che ho detto nelle interviste ovviamente però probabilmente vogliono sentire anche loro da me qualcosa riguardo a Mirto, non so proprio niente di più. Senta Don Ugo però visto che lei, approfittiamo della sua presenza, visto che lei Mirto lo conosce, l'ha frequentato insomma ci ha raccontato anche dei momenti importanti che avete vissuto insieme, il suo impegno nel coro, la presenza a messa, la domenica ma non le sembra strano questa differenza di comportamento, l'età, il devoto Mirto e poi Mirto che pianifica, secondo la procura di Brescia un omicidio così efferato, così crudere nei confronti della mamma, della sua o delle sue fidanzate? Beh certo, l'impressione è molto strana, anche se io a messa e nel canto della messa l'ho visto solo nelle ultime quattro domeniche prima che io venissi via da Roncola, perché prima io ho avuto solo rapporti diciamo di lavoro per dei concerti con Mirto l'ho accompagnato mentre lui cantava e suonava con la sorella e lì io ho visto un Mirto dedito al suo lavoro, alla musica appassionato della musica e questo è il suo contesto, il Mirto religioso l'ho incontrato solo alla fine quindi non saprei quell'aspetto di Mirto come sia valutabile però frequentava la chiesa però ci raccontava di un ragazzo no Nicole frequentava molto la chiesa Mirto sì sì, così ci ha detto anche Don Pedretti sì, in questo ultimo tempo decisamente sì, c'era ogni sabato e ogni domenica a suonare e ha cominciato anche questo sicuramente sì, a rivolgersi a noi per essere benedetto, per pregare, questo sì quindi questa impressione sei però il primo non lo conosco anche perché la relativa eh lo so, quando hai una criminologa in trasmissione ti senti il tuo domani da fine luglio da fine luglio quindi, allora non ci siamo sbagliate eh no, da fine luglio da fine luglio lui ha cominciato questa religiosità è esplosa in quel periodo, è sbocciata questa religiosità da fine luglio a fine luglio a ridosso dell'arresto è un po' strano eh padre questa, no eh vabbè uno la fede la può trovare in qualunque momento però il mio, certo esattamente no ma l'atteggiamento che lui aveva comunque anche prima non era, cioè nei miei confronti di richiesta di altro era squisitamente musicale poi invece è venuta fuori questa ultima parte perché io quando l'ho incontrato ovviamente dopo che era indagato ma prima che si scoprisse del cadavere della signora Ziliani allora lì no, ho visto un mirto provato, preoccupato del suo futuro preoccupato dell'essere indagato, incarcerato di non poterne più uscire anche se era innocente questo è quello che poi mi ha detto e aveva notato anche una trasformazione, no, fisica da parte di Mirto sì, in quello l'ho già detto diverse volte si è presentato con un taglio di capelli alla militare rispetto a prima una grande trasformazione ma questo tutto prima ancora che venisse trovato il cadavere di di Laura Ziliani e lei ha avuto occasione anche di incontrare i genitori di Mirto, la mamma cosa le ha detto Mirna Donadoni, la mamma come l'ha trovata? la mamma e il papà li ho trovati anche lì molto provati per la stessa situazione e molto preoccupati per due cose in particolare la prima è di essere sotto controllo quindi requisito il telefono e lei diceva io ho anche delle foto del bed and breakfast di su che abbiamo fatto per pubblicizzare per continuare a poter operare in quel campo e adesso chissà cosa ne faranno cosa penseranno di questo e l'altro motivo era veramente la situazione delle ragazze aveva delle foto di un luogo non suo aveva sul telefonino le foto del bed and breakfast di Laura Ziliani per promuoverlo sì, le ha fatte proprio col telefonino sì, sì, dico per promuovere le attività le ha fatte col telefonino ormai era lei a gestire la parte economica questo è quello che mi ha detto quindi giustamente lo promuoveva il bed and breakfast visto che poi gli introiti li percepivano loro non più Laura evidentemente interessante questa sì, però anche questa cosa è diversa quello che ha detto a me era per venire incontro a Mirto non per loro ovviamente guardi, io avrei tante domande da farle ma mi rendo conto che sarebbe molto difficile per lei rispondere quindi gliele risparmio però lei è una figura molto interessante in questo incontro grazie però rimane il fatto che anch'io sono molto perplesso di una cosa che è come mai adesso loro non parlino e la scelta degli avvocati di non farli parlare questa secondo me è la cosa che mi lascia più perplesso come tutti penso perché se uno non ha niente da nascondere non sta a zio ma infatti questo è quello che mi sento dire si è anche risposto da solo padre sì, anch'io lo so, è vero è l'unica perplessità che mi rimane perché da come io l'ho conosciuto non lo ritengo possibile di un'azione di questo tipo quindi lei non ha chiesto viceversa Mirto non ha chiesto di vederla Don Ugo Mirto non ha chiesto di vederla Don Ugo io l'ho visto questa volta a fine luglio e poi l'ho incontrato alle messe e poi non mi ha più chiesto nulla e da quando è in carcere ho ricevuto solo i saluti tramite Don Andrea e il cappellano basta ecco ma si aspettava invece una chiamata di Mirto si aspettava che Mirto la chiamasse per avere il conforto per avere una parola non lo so perché non so neanche se possono essendo lui in carcere isolato non credo neanche che possa quindi non me l'aspetto per quello ma per la verità sarei anche un po' in difficoltà se arrivasse una no no adesso non vorrei sembrare più ignorante di quello che sono che già sarebbe un arduo però un cittadino normale è chiaro che non può andare in visita a un detenuto pensavo che un prete che il suo parroco avesse modo tramite il cappellano del carcere magari di interlocuire con lui però secondo me in questo momento non credo neanche lui può l'unica cosa è che io non sono il parroco è l'ex parroco è l'ex parroco è l'ex parroco perché è ancora in isolamento parroco una volta parroco per sé un amico prete è importante una cosa che dice il padre è molto importante un aspetto che ha sottolineato il padre ossia prima Mirto andava cantava con la sorella quindi lui era al corrente poi improvvisamente non si dedica più al canto perché forse è impegnato in un progetto molto complicato insomma da portare a termine per cui la musica non era più nei suoi desideri e poi ritorna un'altra cosa c'è un altro però lui compare in chiesa comincia a diventare a luglio però nel periodo quello di progettazione la vocazione avviene dopo dimentica un po' la sua passione della vocazione avviene in prossimità dell'arresto allora lì c'è la posizione se non ha tre un terzo tentativo di suicidio da parte di Paola e Silvia o solo Silvia? Allora padre cosa le hanno raccontato sempre i genitori di Mirto ci spieghi bene cosa le hanno detto circa questo tentativo di suicidio e da parte di chi e quando? Allora io non posso essere preciso perché a me hanno solo e la situazione era questa loro sono venuti per sfogarsi dire la loro preoccupazione e mi ha detto siamo anche preoccupati perché una delle ragazze ha tentato di buttarsi dalla terrazza e noi l'abbiamo presa per le gambe questo non c'è nessun altro dettaglio né dove era né quando era noi chi? noi chi? Mirna e Mirto Mirna e Mirto mamma e figlio la mamma e il figlio sì così sì questo però risale a quando mi hanno parlato al 28 luglio cioè proprio prima dopo non ho avuto più contatto e sempre la mamma di Mirto le ha detto che era preoccupata per la via del fatto di essere intercettata ho capito bene sì cioè più gli avevano requisito il telefono quindi chiaro che sì questa era una preoccupazione grande cioè del fatto di non poter più avere una vita tranquilla di non poter più parlare liberamente essere liberi di uscire di casa guardi se uno non ha niente da nascondere anche se è intercettato può parlare liberamente lo stesso giusto per informare la signora se ci sta ascoltando certo vale non fare paura non avere l'ha detto una persona che insomma è ancora così una cosa reverendo tecnica proprio squisitamente sacerdotale le è sembrato che l'avvicinamento di questo ragazzo a lei al di là del fatto lavorativo del musicista fosse più da ragazzo che è alla ricerca di una fede o aveva qualcosa di mistico che lei abbia potuto ravvisare c'era una deriva mistica secondo lei in questo ragazzo no penso proprio di no semplicemente trovare conforto in una situazione di dolore punto è una situazione inspiegabile conforto che i genitori di Mirto se non vado errato hanno trovato adesso in una casa della parrocchia per sfuggire alla pressione mediatica così è arrivato a voce che vivano in questo momento in una casa parrocchiale però non ho dettagli in questo noi abbiamo la coscienza posta in questo perché la nostra Nicole Di Giulio credo non l'abbia mai cercato per cui da questo credo spero da questo punto di vista non abbiamo abbiamo tante altre responsabilità ma non questa allora non abbiamo tante altre responsabilità